Dunque ci troviamo a casa di Don Pietro Cesena, che sta facendo le uova, ci ha ospitati a pranzo, che dire, se dovessi esprimere, questo è un prete, come lo identifico io un prete. Ci vuoi dire qualcosa Pietro? Buon appetito. Don Pietro è una persona eccezionale per quanto mi riguarda, che molte cose ci accomunano, l'ho invitato a venirci a trovare, spero che venga a trovarci. Non preoccuparti. Ha detto che l'ho provocato e adesso sono fatti i miei. Mottemanio mi ha detto e niente, questa è la prova di quello che vi dico sempre, che l'amore è al di sopra di tutto e vince sempre. Sicuramente. Niente, adesso noi mangiamo perché abbiamo avuto un'ospitalità grandiosa. Noi mangiamo, questo qui è un formaggio, parli giallo, c'è fuori. Buona giornata a tutti.